Le persone che ci vengono a trovare la festa dell'Uva, e spero siano tantissime, che cosa devono aspettarsi? Devono aspettarsi calore, devono aspettarsi divertimento, devono aspettarsi cultura e tradizione di quello che è il cibo e il vino, cura nel servizio, ma soprattutto lo stare insieme, che è un pochino lo spirito di quello che vuole l'associazione. In quali date si svolgerà l'evento? Dal 30 settembre al 2 ottobre, dove nella domenica del 2 ottobre ci sarà il servizio anche a pranzo.